Non bastasse la già difficile situazione dell'emergenza rifiuti che sta interessando Foggia ormai da alcune settimane, ci sono zone della città alle prese con alte problematiche, come il villaggio Artigiani che vive una situazione di disagio a causa della scassa segnaletica per imprese e strade, mancanza di illuminazione nelle ore notturne e ovviamente la presenza incombrante dei rifiuti. Noi ci battiamo da anni, da oltre 40 anni, da quando esiste il villaggio Artigiani per renderlo più vivibile. Prima cercavamo, quando in un periodo più tranquillo, quando qualcosa era stata fatta, cercavamo di abbellirlo, cioè risistemare le strade, i marciapiedi, creare delle aiuole. Adesso purtroppo negli anni questo è andato perduto e quello che vogliamo è un'infrastruttura efficiente, perché se la segnaletica non funziona, la raccolta di rifiuti non viene fatta, considerando che qui sono aziende produttive e l'illuminazione e la sicurezza, molti imprenditori decidono di andare via. Da via bisogna considerare che il villaggio Artigiani è l'unico polmone produttivo importante del villaggio di Foggia, che dà economia e soprattutto occupazione. Gli imprenditori della zona chiedono insomma un incontro alla Commissione straordinaria, da cui si sentono abbandonati e vogliono continuare a sentirsi parte integrante di una città, dove il villaggio Artigiani ha sempre rappresentato un importante polmone produttivo, che senza l'ascolto delle istituzioni però rischia di diventare terra di nessuno.